Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova avventura! Oggi vi insegneremo come sopravvivere alla foresta plurale italiana. Andiamo! Che imbecillo! Cosa la foresta? Come faremo a sopravvivere? Col caso! Sì! Ti piace il caso? Non proprio. Ma secondo me... Dobbiamo sentirci come i veri animali selvaggi. Cominciamo a correre come gli animali selvaggi. Ma che esagerato! Allora, innanzitutto dobbiamo cercare qualcosa per nutrirci, perché sono 20 secondi che siamo nella foresta. Abbiamo fame, perciò cercheremo delle proteine. Proteine! Vedete ragazzi, questo è un papavero da oppio, ti dà tante proteine! Mmm, proteine! Buonissime! Là ce ne sono tanti! 3, 2, 3, 3, let's go! Come on! Oh mio Dio! Si avvicina un animale pericoloso! Ci vuole inseguire! Oh mio Dio! 3, 2, 3, 2, 3, 1... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sono caduto in una buca! Come faranno a sopravvivere ora? Carl! C'è un'altra buca! C'è un'altra buca! Tirati su! Dove sei? Go! Carl! Eccati! Hai il mio 3! 1, 2, 3! No! 1, 2, 3! Ok! Siamo sopravvissuti! L'animale feroce ha smesso di rincorrerci! Ha visto che siamo deficienti! Svegli! Adesso dobbiamo andare a cercare un riparo per la notte! Andiamo! Vedi anche tu quello di questo! Sì! Alberi! ALBERI! Qui è passato un rinoceronte! Un rinoceronte! Porca due! Scatta! È una nuova razza italiana! Questa niente! Aspetta! Ma lì! Queste sono piante velenose! Ecco! Ragazzi! Queste qui sono piante velenose! Non dovete assolutamente toccarle! Non fate come me che sono un deficiente! Sei morto! Aspetta un altro! Ho capito! Come facciamo? È tutto coperto! Dobbiamo trovare un rifugio! Ho visto! No! Ho visto! No! No! Andiamo in perlustrazione! Let's go! Queste piante Sono delle betullarias protettarius! Ci possono proteggere! Beh, oddio! Guarda! Va bene! La bestia è selvaggia! Nascondiamoci! Sotto! Coperti! 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 Vai! Fai chiedere di essere morto! Sono andato! Dici! Togliati! Aspetta! No! È andato lì! Aspetta! È andato! Andiamo! Dobbiamo andare! Un cartello! Un segno della civiltà! Andiamo a chiedere al signore insetto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Via! Ci stiamo avviando verso il cartello! Il primo segno della civiltà! Che vediamo da tanto tempo finalmente! Purtroppo! Qui! Nella foresta amazonica! O quella cazzo che siamo il giunglo a pluviale! Italiana! Si perde se stessi! Non ti riconosci più! Che cazzo sei tu? Il cartello! L'ho fatto tornare in me! Continuiamo! Andiamo a vedere se dal cartello si vede meglio qualcosa! Una scelta 30 di uno mi ricorda qualcuno! No non è te! Cazzo siamo idioti! La vedi? Guarda! C'è una casa! Una casa! Siamo salvi! Andiamo! Corriamo! Cadi! Finalmente siamo arrivati in questo scorcio di civiltà! Sogniamo! Proviamo a vedere cosa succede! Chi è che osa disturbarmi? 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 Chi è che osa disturbarmi?